Sapevamo che sarebbero state due partite da vincere, quindi siamo partite probabilmente un po' troppo contratte. Abbiamo ricevuto tante informazioni durante la settimana, con il nuovo allenatore abbiamo cercato di assimilare il più possibile il suo sistema di gioco che sicuramente in futuro darà i suoi frutti, vuole un gioco veloce. Abbiamo cercato di metterlo in pratica non sempre nel migliore dei modi, ma credo che pian piano sarà sempre meglio e l'hanno dimostrato i secondi tempi delle partite, tutte le ragazze hanno giocato, le giovani hanno brillato e credo che l'Italia debba puntare su di loro soprattutto. Per me è stato un ritorno, è stato molto emozionante e soprattutto durante l'inno mi sono resa conto di essere tornata e avevo voglia, avevo voglia di tornare, è sempre un onore vestire la maglia azzurra. Adesso si alza il livello dello scontro, aumenta il livello delle avversarie perché il secondo turno ci metterà di fronte a squadre provenienti dagli europei, a squadre di prima fascia ma necessariamente se si passa da lì bisogna passare da lì per pensare di poter migliorare. Credo che abbiamo tutte voglia di confrontarci con squadre più forti per vedere veramente se siamo sulla strada giusta e credo comunque lo sia, saranno a prescindere dal sorteggio due partite molto complicate ma ci alleniamo tutti i giorni per questo, per giocare con le squadre più forti d'Europa e magari sperando in un po' di fortuna riusciremo a dare il meglio. Ovviamente vincere è sempre l'obiettivo e siamo molto contenti di aver raggiunto questo risultato. Hai detto benissimo tu, abbiamo iniziato un percorso, un percorso che sarà lungo, sarà difficile e queste due partite erano le basi che ci servivano per iniziare, iniziare col piede giusto è sempre la cosa migliore quindi siamo molto soddisfatti di questo. Che Italia hai visto in termini di atteggiamento, di approccio, di predisposizione? Siamo molto contenti, veramente tanto bene, tutta la settimana le ragazze si sono allenate con allegria e entusiasmo con voglia di fare, voglia di cominciare questo nuovo percorso e l'ambiente è stato veramente sempre positivo e quindi io credo che sia un bel passo verso la costruzione di qualcosa che speriamo sia entusiasmante. Adesso si alza il livello dello scontro, tra virgolette, perché ad aprile nel secondo turno ci saranno avversarie di altra caratura rispetto a quelle che abbiamo trovato, ma è necessariamente così se si vuole crescere? Sì, assolutamente, speriamo di avere un po' di tempo per lavorare, di riuscire a dare ai tecnici un po' di tempo per mettere insieme tante cose che servono per poter affrontare queste squadre che come dici tu sono di un livello superiore e lo sappiamo, però partiamo avvantaggiate, lo sappiamo, sappiamo sicuramente quali sono i nostri pregi e quali sono i difetti e quindi il lavoro di solito paga e speriamo che ci sia la possibilità di lavorare con questo gruppo che è veramente eccezionale. Devo dire che ogni tanto un po' di fortuna ci vuole, questa volta l'abbiamo avuta. Io sono stata molto contenta di essere qui perché ho visto un gruppo molto affiatato e io spero che si continui a lavorare così come abbiamo fatto questa settimana e che si abbia più rispetto per la nazionale femminile. Io e Katia faremo in modo che questo gruppo lavori con continuità e quindi non con degli stage così ogni tanto perché queste ragazze hanno bisogno di stare più tempo insieme per affrontare delle esperienze più impegnative di queste.